Musica Benvenuti a tutti ragazzi qui è Teddy e benvenuti a un nuovo video Oggi parliamo dei Sacramento Kings perché Qualche giorno fa ho chiesto su Instagram L'altro ieri a dire il vero Ho chiesto su Instagram dei consigli per dei nuovi video Perché veramente stavo finendo le idee con due video al giorno Stavo finendo le idee E appunto mi sono arrivati tipo 300 messaggi in 5 minuti Una roba allucinante Ringrazio veramente tutti E moltissimi di voi mi hanno chiesto Sacramento e Indiana Sacramento-Indiana, 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 Sacramento-Indiana E allora oggi parliamo del Sacramento Kings stamattina E degli Indiana Pacers oggi pomeriggio Parliamo del Sacramento Kings Beh il Sacramento Kings è dal 2006 che non va nei playoff E secondo me anche l'anno prossimo non cambia la musica Però diciamo che stanno iniziando ad assumere un quadro un pochino più realistico Ecco nel senso che prima erano dei meme fantasiosi Adesso sono dei meme un pochino più che si reggono in piedi Ecco Fox, Aliburton La pick 9 di quest'anno Diciamo che c'è un... si intravede qualcosa E secondo me con questa trade si intravede ancora qualcosina di più Perché Baddiel e De'Lon Wright vanno a Dallas per Porzingis e una pick al secondo giro Ora, è chiaro che Porzingis con Donjic non ci può più stare Eh, Donjic tra l'altro sembra essere frustrato nei confronti di Porzingis Quindi non si possono vedere, non si possono baciare, non si possono toccare, niente E secondo me Porzingis mandato in una squadra senza... senza pressioni Come potrebbe essere Sacramento potrebbe essere il toccasana che serve per la sua carriera De'Lon Wright è in scadenza ma secondo me è un upgrade della Madonna, della panchina Anzi, io la 3 Deadline l'anno scorso Pensavo... speravo che i Lakers scambiassero quella merda di Schroeder per De'Lon Wright Feci anche... presentai anche una trade su Instagram Dicendo ragazzi guarda che De'Lon Wright è anni luce avanti a Schroeder È molto più forte Purtroppo Schroeder è rimasto e abbiamo visto cos'è successo Ecco Quindi secondo me De'Lon Wright dalla panchina per Dallas è un upgrade spaventoso Può giocare anche a fianco a Doncic secondo me tranquillamente Bad Hild si sposa benissimo con la visione del palla Doncic e 4 guardano È un tiratore a tutti gli effetti quindi... Non solo può tirarsi gli scarichi ma può anche crearsi il tiro Certo non è Jordan per carità Però pur di scambiare Porzingis secondo me Sacramento riesce a mandarti questo pacchetto Poi magari ci sarà un'altra scelta al secondo giro Dentro può essere Però diciamo che tra il contratto di Bad Hild e il contratto di Porzingis Diciamo che sono entrambi abbastanza brutti È vero? Bad Hild è a scendere quindi è 22-20-18 Che è un pochino più maneggevole del contratto a salire di Porzingis con la player option Sicuramente Però secondo me un Porzingis in una squadra che non ha niente da dire come Sacramento Può tornare a essere quello di New York Mentre invece Dallas allunga parecchio la panchina con De'Lon Wright E sostituisce Tim Hardaway Jr. con Bad Hild che potrebbe essere anche un upgrade da questo punto di vista Ora una cosa che non ho detto è che Sacramento Contender non l'ho potuta fare Perché ovviamente non ci sono gli asset per Sacramento Contender Però aggiustare Sacramento secondo me si può fare Parlando di Ben Simmons e una pick Qui Ben Simmons va per due pick al draft Più Bad Hild e De'Lon Wright ancora una volta Mentre invece Bagley viene spedito a Charlotte Perché secondo me Charlotte ha bisogno di Bagley Secondo me ha bisogno di una squadra giovane Bagley secondo me in quella squadra ci sta bene Per quello che potrebbe dare Per la scelta numero 11 degli Charlotte Hornets Che secondo me Ripeto è vero che Sacramento vuole scambiare Bagley a tutti i costi O Bagley se vuole andare a tutti i costi Però Bagley è una scelta 2 E ha giocato poco Quindi tecnicamente il suo potenziale non ce l'hai Non lo sai Secondo me Charlotte è anche incline a sacrificare la 11 Perché voglio dire Alla 11 le chance di trovare meglio di un Bagley In forma Che gioca convinto E insomma Il Bagley visto prima di entrare in NBA Vale 13 volte la numero 11 Ok quindi Secondo me Charlotte questa scommessa la può fare Perché tanto alla 11 Dai parliamoci chiaro Non dovrebbe uscire Poi oh magari esce Clay Thompson 2.0 E vi dirò Eh ragazzi mi dispiace non l'avevo visto Che alla 11 uscisse Clay Thompson 2.0 Che uscisse Kobe Che uscisse Duncan Che uscisse Chris Paul Guardate mi dispiace Non pensavo che quel giocatore potesse diventare Bryant O Jordan o Lebron Però secondo me Un Bagley Che va in una squadra Di giovani E secondo me Dove può avere I suoi tocchi E' vero C'è la melo Però si corre Si viaggia E Bagley secondo me apprezza Questo tipo di pallacanestro Che è quello che avrei voluto fare con Fox A dire il vero Ehm Chissà Che magari Quella numero 11 La possano sacrificare Però andiamo nel piatto forte Ovvero Liberiamo Bagley Va via Rishon Holmes Prendiamo Ben Simmons Fila Prende De'Lon Wright Dalla panchina Buddy Hilde Che va ad affiancare Seth Firma Kyle Lowry L'ho messo con la Taxpayer Mid-Level Exception E allora Abbiamo Ehm Lowry Wright Scusate Lowry Curry Hilde Harris Embiid Dalla panchina Wright Possono anche rifirmare Danny Green Volendo al minimo salariale Volendo Ehm Hanno Maxey Hanno Tybull Quindi li tengono entrambi Somma Secondo me questa Già è una squadrettina Un pochino più Ehm Complessa Rispetto a quella attuale Rispetto Ad alcuni buchi Che ci sono adesso Soprattutto di spaziature Insomma Aggiungi Buddy Hilde Aggiungi Lowry Aggiungi Wright Dalla panchina Secondo me inizia ad essere Una squadra Molto interessante Da questo punto di vista Sacramento Ben Simmons Da 5 Con Fox Why not George Hill Per questioni salariali Appunto perché Sacramento può assorbire Questi contratti Quindi già che ci siamo Ti prendi anche George Hill Tanto la pick numero 11 Ti soddisfa Quindi ti prendi anche George Hill Secondo me In questo caso Fila Sarebbe più paurosa Rispetto alla fila Dell'anno scorso E di due anni fa Charlotte Per me aggiunge Un pezzo importante Io continuo a credere In Bagley Mi dispiace Sarò anche Troppo biased Nei suoi confronti Ma io credo In Bagley E Sacramento Avrebbe Fox A Liburton Ben Simmons Da 5 E anche qua Va nei playoff Probabilmente no Però Inizia a mettere Ben Simmons Una squadra Spensierata Dove si gioca Si corre Si viaggia E mettilo da 5 E poi vediamo Quali sono i risultati Fra un paio d'anni Ecco Quindi Secondo me Questa trade Ovviamente non accade mai Perché non accade mai Però Così Tanto per ridere Poteva starci Le due pick Che manda Sacramento Sono la 23 Protetta in lotteria E la 25 Protetta top 5 Allora La 23 Protetta in lotteria Si può anche abbassare Volendo si può mettere Anche top 10 Però Nel 2023 Quindi fra due anni Forse Sacramento Ai playoff Ci può anche Potrebbe anche andarci Non sappiamo come sarà L'Ovest fra due anni E magari Sacramento Con Fox A Liburton Simmons E una firma importante O comunque una firma discreta Potrebbe anche andare In playoff Quindi questa pick Poi È alta Sarà una 18 17 16 Quel che l'è E poi nel 2025 Ne riparliamo Però Secondo me Si potrebbe Sacramento potrebbe rischiarsela Ovviamente è utopica Questa che Simmons a Sacramento Non ci va E fila Però Per Delon Wright Bad Hilde Due prime E la possibilità Di firmare Lauri In free agency Con i soldi risparmiati Appunto Da questo scambio Ora Qui andiamo Da tutt'altra parte Ovvero Una squadra che non ho mai messo In uno scambio Memphis Perché è vero Memphis è una squadra giovane Che però Continua ad andare In playoff Però manca qualcosina No Manca forse Un Un po' di aiuto A Morant E allora In pacchetto Valanciuna Staius Jones E Justice Winslow Che sono tre annuali In scadenza Quindi in questo caso Sacramento cosa fa Assorbe contratti In scadenza Prende anche la pick Di Memphis E manda Wright Hilde E Bervin Bagley Quindi avresti Un quintetto Con Morant Brooks Hilde JJJ Bagley Con Kyle Anderson Con Slomo Anderson Dalla panchina Delon Wright Dalla panchina Potresti avere Xavier Tillman Che ha giocato molto bene Molto bene Ai playoff Brandon Clark Dalla panchina Cioè Qui L'età media di Memphis Si abbassa decisamente E aggiungerebbe Bagley Ora il discorso sarebbe Ma JJJ e Bagley Possono stare insieme in campo Ecco Quello forse È Io credo L'unico difetto Di questa potenziale trade Secondo me Valanciunas Meglio dell'anno scorso Non può giocare Quindi Ha raggiunto il massimo valore È in scadenza Quindi potrebbero perderlo a 0 Tyus Jones è in scadenza Winslow ha la team option Quindi l'accettano per scambiarlo Sacramento lo può pagare Però Memphis manda la 17 Quindi Sacramento assorbe contratti in scadenza Quindi avrebbe la 9 e la 17 Con Poi l'anno prossimo Un sacco di spazio salernale libero E Memphis fa uno step in più Per andare poi a essere Competitiva Tra qualche anno Perché se Bagley Anche qua Siamo sempre lì Se Bagley È il giocatore scelto Allo numero 2 Nel draft 2018 E fa vedere le cose Che può fare E lo metti a fianco a Morant A fianco a JJJ A fianco a Dion Brooks A fianco a Brendan Clark E Insomma Fra un paio d'anni Qui abbiamo qualcosa di serio Se Morant Continua a salire così E se Bagley Dovesse finalmente Trovare continuità E farci vedere Quello che sa fare Certo Jaren Jackson Oramai È un desaparecido È un falso invalido Oramai Non gioca praticamente più Guida i pulmini Della scuola da cieco Oramai ha trovato Ha trovato Nella falsa invalidità Il suo stile di vita Quindi non gioca mai Gioca 10 partite all'anno Lui c'ha il contratto a chiamata È il primo giocatore La storia NBA Che c'ha il contratto a chiamata Jaren Jackson Junior Lui lo chiamano Ma viene a giocare? No oggi no Non ho voglia Poi dopo 5 periodi Viene a giocare? Sì dai Oggi vengo Che non ho niente da fare Tanto Netflix Ho finito la mia serie tv Ecco se Jaren Jackson decidesse magari di giocare Non dico 82 su 82 Ma almeno 70 su 82 Magari chissà Memphis potrebbe anche ambire a qualcosa di più rispetto Rispetto a A quello che ha ambito fino adesso Però qua secondo me abbiamo Svecchiamento Abbiamo Continuità Perché Baddild è un triennale Bagley lo puoi estendere Wright lo puoi rifirmare E secondo me i giocatori che tu sacrifichi E la pick al draft Non te ne frega niente Perché a Memphis della 17 Se ne frega veramente niente Cioè Memphis ha bisogno di giocatori pronti Adesso non ha continuamente bisogno di pick Di pick Di pick Di pick Secondo me un Baddild Ci sta bene a Memphis Visto anche il 5 fuori che hanno Bagley Secondo me Potrebbe starci bene De'Lonvry Dalla panchina Per me ci sta sempre bene in ogni squadra Oh Magari Memphis Fa sul serio eh Chi lo sa Qui in questo caso ovviamente Sacramento va di tanking pesante Quindi libera 8 milioni Prende contratti Poi Valanciunas lo può scambiare ancora eh Valanciunas lo può scambiare la deadline Va a Sacramento Fa 37 18 di media Lo scambiano la deadline Per 12 pick al draft E Sacramento diventa Ora ovviamente I Celtics ci sono sempre dentro No perché Io stifo Lakers Però ho un Come dire Ho un debole per i Celtics Continua a metterli In ogni video ci sono i Celtics Però Oh Che devo fare Mi stanno simpatici Tatum poi è uno dei miei giocatori preferiti Vederlo così mi fa stare male E allora Bad Hild va ai Celtics Per Tristan Thompson Marcus Smart Adesso vi spiego Calma Già sento subito le tastiere Ma come Marcus Smart Beh no Lengford E due pick al secondo giro Allora anche qua Lo scambio quale sarebbe in sostanza Sarebbe Smart Per Hild Secco Perché Tristan Thompson Non te ne fai niente Ai Orford Ai Time Lord E ai Moses Brown Lengford Non vede il campo Le due seconde Chi se ne frega Quindi sarebbe Smart Per Bad Hild Ora il discorso qual è? Beh innanzitutto Smart è in scadenza E quindi Se se ne va Se ne va Primo Secondo Bad Hild è un triennale Quindi scade con Jalen Brown Lo stesso anno Quindi hai tre anni di continuità Da questo punto di vista Scendi col salary cap Scendi col salary cap Quindi Tu le due seconde Le mandi a sacramento Per accollarsi i contratti Di Il contratto di Tristan Thompson In sostanza Dici senti Tristan Thompson Non me ne faccio niente Accollati ste due seconde Pigliati sto contratto Che io ho bisogno Di spazio salariale Smart Ripeto è vero In difesa È un cagnaccio E sapete che Per me Smart È la mamba mentality Incarnata Però Smart Ultimamente Ha fatto girare un po' I coglioni a tutti Compreso il suo ex allenatore Brad Stevens E allora non so Fino a che punto Smart voglia Rimanere a Boston Lui E Gli altri Vogliano che lui rimanga Ecco Quindi Secondo me In questo caso Aggiungi Un altro scorer È vero Ti manca sempre Il playmaker In questo caso Perché perderesti Smart Avresti Hild Brown Tatum Timelord O Brown Hild Tatum E Orford Poi dipende dal quintetto Manca il play Però intanto Inizia a liberare altri 5 milioni Inizia a liberare altri 5 milioni Per fare spazio A giocatori Per fare spazio a un play Magari Che possa aiutare Avrei potuto mettere DeLonWright qui Avrei potuto mettere anche DeLonWright qui E sarebbe stato Wright Hild Brown Tatum Orford Per dire Secondo me DeLonWright può giocare anche playmaker In una squadra da titolo Ve lo dico proprio chiaro e tondo Non sono un fanboy Ma secondo me DeLonWright Ha Le caratteristiche Necessarie Per poter essere Quel giocatore Certo Poi non è che è Steve Nash O CP3 Però Secondo me In un sistema Boston Con ovviamente a fianco Brown Tatum E Orford Che fa il mentore Time Lord Cioè Nel senso Per me questo scambio Potrebbe essere anche interessante Ovviamente In questo caso Sacramento cosa fa Assorbe Tristan Thompson Lo lascia scadere Lengford Se lo mette da parte Lo fa giocare Le due seconde Grazie Me le tengo magari Per spostarmi più in alto Al draft E Smart Poi lo riscambia La deadline Anche qua Smart lo fa giocare Oppure lo gira subito Magari Sacramento Prende Lo manda da qualche altra parte Immediatamente Una trade a tre Ovviamente poi Le vie del signore Sono infinite Anche le trade Sono infinite Poi Mandatelo Mandatemi Smart Ai Lakers Per Kuzma Io so Oh Firmo oggi eh Smart ai Lakers Un annuale Per quella merda di Kuzma Firmo subito Non me ne frega un cazzo Che annuale Cioè Non me ne frega È proprio un cazzo Che annuale L'anno prossimo Può andare dove vuole Però un anno di Smart Con Lebrone Davis Firmo Parlando di merde Parlando di merde C'è la merda di Kuzma Ce l'ho fatta Avete visto Però stavolta Non si muove Bad Hild Perché il contratto Di Bad Hild È un po' brutto Per i Lakers Preferisco decisamente Quello di Harrison Barnes Perché Perché Barnes È un biennale Come Lebron Di conseguenza Lebron e Barnes Scadrebbero insieme Che è già meglio Perché Bad Hild Invece avrebbe Un anno in più E Insomma Ecco Harrison Barnes Secondo me Con Lebron Potrebbe stare bene Perché Harrison Barnes Sostanzialmente È uno spot up shooter Però può mettere anche Palla a terra Volendo nelle situazioni Dove il difensore Fa close out Lui lo batte dal palleggio E va E va al ferro È un giocatore Che ha vinto Perché Ai Warriors Ha vinto È vero Anche perso con Lebron Sono 1 a 1 Perché poi è arrivato KD Insomma Ecco Lì c'era poco da giocare Però Barnes e Lebron Sono 1 a 1 2015 E 2016 È un bel difensore E secondo me Ci potrebbe stare Lakers È vero 20 milioni Sono tanti E ti preclude Una terza superstar Però secondo me I Lakers Non hanno bisogno Di una terza superstar I Lakers Hanno bisogno Di avere un roster Perché Lebron e Davis Bastano e avanzano Per vincere Serve un roster Dignitoso Un roster capace Un roster Di giocatori Che si Con coesione Con intelligenza Tattica Con intelligenza Generale Si spera Quindi niente McGee Niente Lance Stevenson Per favore Niente Michael Bisley Ecco Gente intelligente E perché Lebron e Davis Sono già esagerati Di loro Non c'è Veramente bisogno Di una terza stella Serve una squadra Però Ecco Secondo me Barnes In quest'ottica Ci sta Benissimo Ovviamente Sacrifichi Quella merda Che torna a giocare Con Walton Quindi Va a fare 60 punti di media Con Walton Come faceva I Lakers Corre Tira Fa quel cazzo Che vuole Così Sacramento Tenka all'infinito Prende 8 8 scelte Al primo giro Nei prossimi 8 anni McKinney Fuori dal cazzo Perché sono soldi Regalati La scelta Al secondo giro Per facilitare L'addio Della merda E Montreselone Credo che esca Dalla player option Quindi ho tolto La player option Di Errol Perché secondo me Non ha senso Per lui rimanere a Los Angeles Visti i playoff Che non ha giocato Quindi Secondo me Errol andrà a cercare Soldi Da qualche parte Essendo un ex Sto uomo dell'anno Andrà a cercare soldi Più soldi Dei 10 milioni Di mid level Exception E i Lakers Risparmiano pure Quindi In tutto questo Liberiamo Una merda Un contratto Inutile di McKinney Una pick Che non ce ne frega niente Errol Che tanto se ne va comunque E prendi Harrison Barnes Che secondo me È un giocatore Ottimo Per i Lakers Soprattutto con Fitzdale E Vogel In panchina Sarei veramente contento Di vedere sta trade Ve lo giuro Da tifoso Lakers Sarei contentissimo Non tanto per la merda Ma quanto per Harrison Barnes Secondo me Sarebbe una presa Molto interessante Oddio What What Kyrie Kyrie Annola What Yes Kyrie e DeLon Wright Annola Ocio perché adesso Devo spiegarvi un paio di cose Allora Partiamo dal presupposto Che Lonzo Fa sign in trade E saluta Ok Quindi i Pelicans Adesso devono fare Sul serio Perché Perché Zion Sta iniziando a dire Eh però Eh però Ecco Quindi cosa facciamo Prendiamo L'ostetrico Kyrie L'ostetrico Irving Non so se l'avete visto Il video di lui Che fa partorire la moglie Una vasca da bagno Quindi l'ostetrico Ora Chiaramente I Nets Per scambiare Kyrie Si allargano E si allargano Decisamente Perché Perché arrivano Il top 3 centri All time E adesso vi spiego Perché Calmi Lo so che Allora Lo so che Questa trade Suona male Suona malissimo Eh Pare una barzelletta Lasciatemi spiegare Qual è Il significato Dietro E poi potete Scrirmi Che fa comunque Cagare Tranquillo Poi potete Dirmelo comunque Che fa cagare Però almeno Ascoltatemi Prima Allora Quindi I Pelicans Si mettono Sul groppone Kyrie E DeLon Wright Ok Per permettersi DeLon Wright Mandano Bledsoe E tre seconde Perché comunque Bledsoe è un contratto Importante Tu vuoi avere Kyrie Ok Quindi vuoi lo spazio Per avere Kyrie Vuoi lo spazio Per avere DeLon Wright Come backup PG E allora Bledsoe è tre seconde Quindi regali Sostanzialmente Tre seconde A sacramento Pur di avere Kyrie In squadra Ok Non te ne frega niente Delle scelte al secondo giro Che te ne frega Se prendi Kyrie Ok Quindi tu vuoi facilitare Il più possibile Questo scambio E allora Secondo me Tre pick Al secondo giro Possono starci Ricordo che Bledsoe è un biennale Ma è un non garantito Sull'anno prossimo Quindi se lo tagliano Inizio dell'anno prossimo I Kings Risparmierebbero 14 milioni Ok Ora Per fare posto A Tutti i giocatori Che prende Brooklyn Brooklyn deve mandare DeAndre Jordan E Shaymet A Sacramento Ora Siccome sarebbe DeAndre Jordan E Shaymet Per Buddy Hilde E ho messo Justin James Perché Se no poi Sacramento va a troppi giocatori E Brooklyn Non ha praticamente più nessuno A roster Ovviamente Brooklyn Deve sacrificare Tutto Perché ovviamente DeAndre Jordan È un contratto inguardabile Shaymet È una team option Però Buddy Hilde È meglio Di gran lunga E allora Vanno via Tre seconde Anche di Brooklyn E la pick Al primo giro Di quest'anno Che è la scelta Numero 27 Se non sbaglio Yes È la scelta 27 Stavo guardando il mio foglio Un lapsus Quindi Sarebbe DeAndre Jordan Shaymet Scelta 27 E tre seconde Per Buddy Hilde Ok Ora Buddy Hilde È un contratto Triennale Garantito Anche qua Difficilmente Scambiabile Sacramento Vuole Velocizzare Il tanking Vuole velocizzare Il fatto di avere Contratti Leggeri A roster E allora Buddy Hilde Può essere mosso Per Secondo me Questo tipo Di offerta DeAndre Jordan Tantanto Chi se ne frega Shaymet Lo paghi poco Tre seconde Che puoi muovere Sempre per Prendere qualche pick Late first round E appunto Parlando di pick Late first round La 27 Di Brooklyn Chiaramente Nola Manda Steven Adams Kira Lewis Junior La numero 10 Al draft E una pick Futura Perché arriva Kyrie Irving È vero Kyrie è in scadenza Però chiaramente Steven Adams Non è abbastanza Kira Lewis Non è abbastanza E allora La 10 Ci deve stare dentro E anche La pick 2023 Secca Perché La pick 2023 Non ha protezione Perché Secondo me Nola Nola Nel 2023 Avrà una squadra Abbastanza buona Da comunque Andare ai playoff Quindi quella pick Sarà comunque Non bassissima Non sarà una top 5 Secondo me Sarà una pick Verso la 20 Ok Anche perché ripeto L'ovest Fra due anni Non si sa Come è messo Perché Kawai può andare a est Lebron scade Fra due anni Cioè Nel senso Occhio perché L'ovest Fra due anni Veramente Scade Wall Ad esempio Houston Attenzione che Tutto È sicuro Tranne che L'ovest Nel 2023 Quindi Nola può Insomma Con Ingram Zion Kyrie Insomma Secondo me Possono far rumore Ecco Quindi Nola è vero Che investe il futuro E investe tanto Ma Nola non può fare Altrimenti Cioè New Orleans è letteralmente In win now Magari non win now Ma try now Cioè Nola non può Rimanere ferma Impassibile Deve rischiare qualcosa Perché Col talento che ha in squadra Non può stare ferma E osservare Ok Quindi è per questo Che io do Kira Kira Lewis La 10 E una pick 2023 Perché appunto Kyrie Kyrie ti porta Arriva dalla sua miglior stagione Ragazzi Cioè è vero che Fa l'ostetrico Si prende le pause Si è fatto male I playoff Però Kyrie Ha fatto una stagione Regolare Della madonna Insomma Se metti Kyrie A fianco a Ingram Con Zion Da 5 E magari Il sign and trade Con Lonzo Porta qualcosina Di interessante Nola non è messa Così male Rifirmi Josh Hart Hai Nikail Walker Alexander Dalla panchina Prendi qualche Veterano Hai DeLon Wright Come backup Point guard Cioè Secondo me Nola In questo modo In proiezione Bisogna aspettare Poi Lonzo Cosa fa E il sign and trade Che vorranno fare Però Occhio Nel senso Secondo me Non è messa così male Sacramento Ovviamente Entra nella modalità Tanking totale Nel senso Assorbo contratti Tipo Cloma City Prendo tutte le scelte Di sto mondo Eccetera E però Occhio Perché i Nets Fanno paura Adesso Perché qualcuno Mi dice Ma come Steven Adams Con Mike D'Antoni E Steve Nash Beh avete visto I playoff La fisicità Di Milwaukee Che ha messo Molto in difficoltà I Brooklyn Nets DeAndre Jordan Manco è entrato in campo Per dire Non avevano veramente Un lungo Ecco Steven Adams Che ha lo stesso Identico La stessa identica Scadenza di Arden E KD Quindi Facciamo finta Che Durente e Arden Accettano la player option Scadono insieme Ok Altrimenti Adams Ce l'hai per un anno solo Poi lo scambi L'anno prossimo Volendo Però Secondo me Avresti Dean Whitty Lo perdono Dean Whitty Lo perdono Sicuramente A meno che Non lo pagano Cifre esagerate Quindi avresti Arden Hild KD Harris Steven Adams Dalla panchina Avresti Kira Lewis Claxton Jeff Green Che rimane Cioè Attenzione Secondo me I Nets Sono anche meglio Dell'anno scorso Perché Tanto Steven Adams Le partite Non le finisce Tranquilli Finisce Durente da 5 Non cambia niente Però Se hai un lungo Che ti dà fastidio O hai una squadra fisica E ti serve rimbalzo Beh Allora Steven Adams In quel senso Ti aiuta Ad arginare Quel tipo di situazione E avresti anche La risposta A questa situazione Che è mancata Quest'anno Ovvio Poi Si sono fatti male tutti Con i Big Free Finiva 4-0 Tutte le serie Sono d'accordo Però Secondo me La profondità Che ti garantisce Questa trade È abbastanza Importante Ora A Sacramento Può andare anche Clexton Potrebbe andare anche Clexton A Sacramento I Nets Potrebbero veramente Sacrificare anche Clexton Per comunque Avere La numero 10 Con cui lo sostituisci È una pick futura Che puoi mettere In un altro scambio Kira Lewis Un bel playmaker Per il futuro Comunque Interessante Bad Hild Che tira E sappiamo Con Insomma Con Il 5 Fuori Di Nash Ed Antoni Bad Hild Può far rumore Soprattutto Con Arden E Durant E ha Steven Adams Che porta Dei blocchi eccezionali Tanta fisicità Tanto rimbalzo Difesa interna Che è quello che manca I Brooklyn Nets E con Arden E Durant Steven Adams È un È un giocatore Che posso anche Pensare di avere Ecco Diciamo che Steven Adams Con Westbrook Magari Anche se ha giocato La miglior palla canestro Di sempre con Westbrook Però Non è la stessa cosa Che avere Arden E Durant Nella stessa squadra Quindi Arden sarebbe Playmaker A tutti gli effetti Quindi toglie anche Il problema Di chi porta palla La porta Arden Punto Bad Hild Sta in un angolo In questo caso È quello che deve fare Adams Porta i blocchi E il pick and roll Con Arden Secondo me È molto interessante Per le soluzioni che ha Durant Lasciamo perdere Un giocatore Che non ha senso Quindi inutile anche Portarlo nel discorso Sacramento Piglia Fottio Miliardi di pick E Nola Occio Perché Nola Bisogna aspettare Quello che fa con l'onzo Però Un Kairia Nola Per Adams Kira Lewis E la scelta 10 Tanto Nola Che se ne fa Nola Di una scelta 10 Parliamoci chiaro Parliamoci chiaro Che se ne fa Nola Di una scelta 10 Niente Esatto 2023 Che se ne fa Della pick Tanto a quella dei Lakers Per di più Nola ha le pick Dei Lakers Quindi se i Lakers Vanno male Le pick ce le hanno comunque Quindi per Nola Non è un problema Mettere dentro pick Anzi Se avete sentito Nola offre Ingram E tre scelte al primo giro Per Lillard Se dovesse diventare disponibile Quindi per dire che Nola Le pick Le dà volentieri Ecco Kyrie è in scadenza Quindi ovviamente Non troppe pick Però Insomma Occhio perché Secondo me Questa E Fanta Trade Pure questa Però occhio Perché Sulla carta Secondo me I Nets Fanno ancora più paura Di quest'anno E dell'anno scorso Ve lo dico proprio Realisticamente Con questa squadra E l'ultima trade Di oggi E per quanto riguarda Sempre Baddild Ma stavolta Va a Phoenix Siamo nello stesso discorso Che ho fatto Per Sexton La trade è uguale Quindi Saric Jele Smith E la pick Di quest'anno Che è la 29 Per Baddild Ora Ripeto Baddild ha un contratto Abbastanza pesante E non so quanto valore Abbia all'interno Della Lega Quindi secondo me Jele Smith Che anche qua Facciamo finta che Bagley viene mandato Da qualche parte Quindi io prendo sempre Per scontato Che Bagley salti Salta Bagley Dai fiducia Jele Smith Saric Ha un contratto Che passa E una pick Una late first round Per un contratto Abbastanza pesante Come Baddild Potrebbe Essere sufficiente Magari ci va via Una pick al secondo O quant'altro Baddild E Sands Allora Qui Booker Fa il play Quindi Booker Diventa a tutti gli effetti Il Chris Paul 2.0 Ripeto Qui è nel caso In cui Chris Paul Salta Nel senso che CP free va via Eccetera Quindi Come sostituisci CP free Potresti prendere Baddild Che è un altro Con tanti punti Nelle mani Nei set Di Monty Williams Ripeto Così come parlavo Di Sexton Secondo me può andare Molto bene Un altro tiratore Quindi avresti Anche L'opportunità Di Insomma Di allargare Ulteriormente Il campo Con Baddild Quindi avresti Booker Hild Crowder Eyton E Bridges E i soldi Per rifirmare tutti Ci sarebbero Perché ripeto Che Baddild Scende di contratto Andando avanti Quindi I soldi Per firmare tutti Ci sono Mano a mano Beh Insomma Risparmi 40 milioni Te ne carichi 10 Quindi sono 30 milioni In più Senza la Player option Da 44 Di CP free E poi Hai lo spazio Per la panchina Per migliorare Per firmare anche Qualcuno di interessante Se vuoi Secondo me Non sarebbe neanche Una presa così brutta In questo caso Ripeto Sacramento Anche qua Punta su Gene Smith Sacrificando Sacrificando Bagley Prende una late First round Non so che valore Abbia Baddild Però Diciamo che Comunque Un Baddild A Phoenix Secondo me Potrebbe anche Starci bene Ora ripeto Queste trade Non vedevano Sacramento Contender Perché è impossibile Migliorare Sacramento Onestamente Secondo me Sacramento Deve fare Quello che sto Facendo Cioè Liberare il Contratto Di Baddild Perché è Veramente Tre anni Per Cioè Tenere un Triennale Del genere Per Sacramento È Letteralmente Darsi la Zappa Sui piedi È Zapparsi I piedi In maniera Violenta E sadica Quindi Scambia Baddild Liberati Di quel Contrattone Prendi Contratti In scadenza Prendi Qualche Pic Prendi Magari Qualcuno Che possa Esserti Più D'aiuto Tipo Porzingis Sai Magari Ci scommetti Su Porzingis Visto che Bagley Dovrebbero Perderlo E Riparti Da lì Anche qua Tenka E Oh Che devo Dirvi Cioè La squadra È quella Che è La dirigenza È quella Che è L'allenatore È quello Che è Ora Avrei Potuto Mettere Bill A Sacramento Certo Avrei Potuto Mettere Lillard A Sacramento Certo Avrei potuto Tradare De Aaron Fox Certo Però Adesso Dai Non esageriamo Però Secondo me Bad Dield Deve essere mosso Perché il contratto È troppo grosso È troppo grande Per una squadra Come Sacramento E poi Vedi cosa Prendere Insomma Da Bad Dield Secondo me Qualche squadra Che vuole fare Un saltino In più Di qualità Lo può Prendere Ovviamente Alle giuste Richieste E Sacramento Torna un pochino Più a respirare Saleralmente Parlando Ecco Io Onestamente Punterei Su Porzingis Quella di Porzingis La farei Per Wright E Bad Dield Io Porzingis Gli darei fiducia A Sacramento Mi piacerebbe Sarei curioso Di vedere Porzingis A Sacramento In un ambiente Più soft Più Rilassato Dove magari Può giocare vicino A Canestro E soprattutto Bisogna vedere Cosa ottengono Per Bagley Indietro Perché è vero Che vuole essere Scambiato e quant'altro Però è una numero 2 Al draft Quindi Insomma C'è sempre un po' di Come dire Sì sì ragazzi Va bene Ok Bagley Sta male Ha giocato poco Però ha una scelta 2 Al draft Nel senso Calma Andate a vedere Cosa faceva Cosa faceva Prima di entrare N'NBA Ecco Non vorrete mica Che vi svendiamo Bagley Su Indiana Io vi ringrazio Vi saluto Ci vediamo Un prossimo video Can you hear The sound We're the revolution 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 We're the revolution